far preoccupare un uomo di perderti potrebbe essere la soluzione sicuramente fallo preoccupare di perderti e lui si preoccuperà di tenerti fai preoccupare un uomo di perderti e lui incomincerà a pensare che vale la pena forse averti al suo fianco fai pensare un uomo di perderti e lui incomincerà a credere che dovresti stare con lui che ti vuole al suo fianco come fai a farlo fai ti preoccupare di perderti farlo preoccupare di perderti ma allora io direi che è veramente semplice problema di base qual è in questo caso io voglio farlo preoccupare di perdermi sicuramente devo andare ad agire su una base semplice ovvero intanto mi devo fare una autoanalisi autoanalisi che significa non siamo qua a fare le cose sofisticate siamo qui a pensare invece di comprendere quali sono i punti dove ho sbagliato quindi prima cosa questo come seconda battuta l'utilizzo del verbale nel modo giusto l'utilizzo del verbale e l'integrazione di un antagonista ora se io voglio far avere un uomo paura di perdermi intanto faccio un'analisi dei miei atteggiamenti quando faccio una una disamina quando vado a disaminare quello che devo fare che succede quello che ho fatto che succede mi guardo indietro come si fa la disamina si fa così mi guardo indietro come se fossi in terza persona incomincio a visualizzare la mia persona in terza persona incomincio a visualizzare la mia il mio soggetto in terza e provo a pensare a quello che è successo l'ultima volta in cui sono stato con quella persona disamina ok ci penso chiudo gli occhi comincio a disaminare e intanto vedo i punti salienti dov'è che ho sbagliato dov'è che sono stati degli errori che penso che siano stati degli errori fammi andare a guardare anche se sono un profano non sono un addetto alla seduzione no sono un profano allora osservo in terza persona i punti dove penso di aver portato l'altra persona a darmi scontato intanto e quindi sapere quali sono i punti che devo andare a rimuovere saltuariamente dopo che abbiamo letto la bibbia sono stata molto attaccata appiccicosa l'ho visto un po scostato bene questo è il primo punto continuo la disamina quando siamo a casa ultimamente lui torna da lavoro mi trova sempre pronta faccio sempre tutto per lui per cinque giorni di fila si è verificata questa cosa altro punto e sono già due punti disamina ultimamente non mi corteggia più e io non sto dicendo niente me la sto facendo andare bene terzo punto tre punti disaminati ora utilizzo del verbale e riduzione comportamentale nei confronti di quell'atteggiamento e nei confronti quella persona quindi cosa vado a fare il blocco e che penso bene in crema introduzione del radio 11 introduzione del radio 11 nella riduzione dei miei atteggiamenti che penso non siano stati atteggiamenti che appunto ritenevo funzionari ora primo punto che abbiamo visto questo è un esempio pratico classico esempio no magari di donne che vengono da me dopo la lettura della bibbia sono stata sempre attaccata tutte le volte che leggiamo la bibbia adesso una volta sarò attaccata una volta sarò completamente distaccata dopo aver letto la bibbia mi alzerò mi andrò a fare qualcos'altro e mi distanzio mi allontano completamente fisicamente da lui forse esco pure vado con le amiche lo tratto come se fosse un fazzoletto e inserisco il radio 11 quindi una volta lo faccio dopo la bibbia e una volta non lo faccio bene poi fammi pensare beh tutte le volte tornato al lavoro mi trovava sempre pronta a servire e gli preparavo la cena introduzione del radio 11 che significa dell'assenza e presenza una sera sono lì a fare la pronta la sera dopo trovo una scusa per ovviare ah scusa mi sono sentita proprio male mi è venuto mi è venuto il ciclo con dolore devo dormire mi devo riposare non ce la faccio dai su non rompermi fammi stare un po' tranquillo l'utilizzo del verbale si esplicita quello che vuoi voglio stare tranquilla non voglio fare adesso devo stare calma ho bisogno di tempo bisogna stare tranquilla e ancora il giorno dopo invece sei presente fai come se nulla fosse giorno dopo ancora no scusa guarda che mi sono proprio dimenticata poi ero stanca dal lavoro dovuto dormire e poi non avevo voglia ora mi dispiace fallo tu fallo tu per me perché non lo fai tu per me mi piace molto quando tu fai queste cose per me quando lo fai tu per me lo sai ti vedo molto uomo compensazione verbale invogliare l'altro attraverso i complimenti e l'incoraggiamento a fare qualcosa semplice gestione di hr questo gestione delle risorse umane gestione risorse umane lo sai vuol dire quando io ho un delegato o un collaboratore io il collaboratore non lo posso devastare e impaurire io il collaboratore lo devo invogliare a fare le cose per cui io l'ho delegato e per cui sta collaborando con me quando io mi occupo del collaboratore lo vado a incoraggiare e premiare e invogliare premiare quindi a regalarvi una percezione positiva di quelle che sono le cose che ha fatto in passato e che penso che lui sia bravo a fare stessa antica cosa premiazione verbale e invogliare premiando anticipatamente verbalmente la persona ah quando lo fai tu sei davvero bravo sei fantastico perché non mi fai vedere un po' che lo fai tu amore mi sento davvero corteggiato quando lo fai mi posso fidare te davvero moltissimo il giorno dopo lo fai tu ancora per lui il giorno dopo ancora invece no guarda amore scusami ma dovevo andare con le amiche avevo da fare terzo punto l'ho disaminato ah qual è il terzo punto non sono scordato mi sono fatto prendere troppo dalla foca terzo punto implica che cosa mi sembra che sia fosse stato qualcosa dell'esempio pratico che avevo fatto mi sembra che fosse sulla come si chiama sulla sul fatto che lui non ti stia corteggiando come prima una cosa del genere lo faccio preoccupare di perdermi non mi corteggia più come prima bene una volta durante la settimana e una volta sì e una volta no il fine settimana quindi sono due o tre giorni il fine settimana un fine settimana un un giorno sì un giorno no durante un venerdì sì un venerdì no un sabato sì un sabato no organizzo con le amiche un'uscita e mi faccio bellissima per uscire con le amiche organizzo un'uscita con l'amico del cuore che tra l'altro ti vuole portare a leggere la bibbia ma questo è un altro discorso mi fate parlare di questa roba e poi mi viene il lacrimone mi viene proprio l'angoscia proprio il laidume lo schifoso proprio l'ercio mi viene quando quando vi sento là illuse naif che lui non sia interessato fisicamente a voi un uomo che non è fisicamente interessato a una donna ma di che cosa stiamo parlando ma c'è della naivete c'è dell'ingenuità non fate l'ingenue lo dico anche nel videocorso l'ingenuità è il male l'ingenuità è una dimostrazione che dovete dare l'ingenuità non l'ingenuità reale elaborata non l'ingenuità elaborata l'ingenuità percepita vi dovete far vedere ingenue non essere davvero ingenue ah si stasera esco con l'amico il giorno dopo esci con lui ci sei o stai con lui e cominci a farlo preoccupare di perderti ora questo radio questi rapporti o li alzi peggiorando quindi riducendo ancora di più o li abbassi piano piano questo gli darà la possibilità di preoccuparsi che ti potrebbe perdere quindi una rimozione su queste basi ti consente con il lungo termine di fare che cosa? ti consente di poter dire adesso se mi desideri e mi vuoi mi piacerebbe che tu facessi questa cosa perché ti ho visto un po' più assento ultimamente sai amore? però insomma questo volevo solo dirtelo poi cambi il discorso e continui a fare quello che stai facendo e gli fai capire quali sono le tue necessità quali sono i tuoi bisogni importantissimo grazie per essere stati qua in descrizione trovate tutto videocorso, introduzione, libri, assistenza, patreon qualsiasi cosa vi mando un forte abbraccio